Il caso è scoppiato circa un anno fa, la signora Maria Pia Gardini denuncia pubblicamente di aver versato nelle casse della chiesa di Scientology americana un milione di dollari, cioè un milione e centocinquantamila euro contando solo i pagamenti dimostrabili con ricevute altri sessantaduemila euro a quella italiana poco più di centoventi milioni di lire. Maria Pia Gardini è la cugina di Raul Gardini, per cercare di recuperare il suo denaro all'inizio dello scorso anno è avviata una causa civile negli Stati Uniti che andrà in dibattimento, tratto da famiglia cristiana, data 17 febbraio 2002. Questa attività di denuncia è continuata, è in forma assolutamente diretta e esaustiva, noi abbiamo il piacere davvero per questo gliene sono grato di avere in diretta con noi la signora Maria Pia Gardini. Signora Gardini buonasera. Buonasera. E grazie per aver accettato il nostro invito e l'opportunità che dà Overture l'altra Italia, da Radio IES alla radio della città di Roma. Domanda sì. Qualcosa di sbagliato, io ho cominciato nel 2001. Io sono rimasto, ho citato la fonte, ci mancherebbe. No, nel 2001 io ho cominciato la mia lotta contro Scientology. Contro Scientology. Come si avvicina Scientology, abbiamo grossomodo capito quello che è la sua solidarietà anche materiale che elargisce a Scientology e poi ne esce per quale motivo. Ma la prima domanda è proprio questa, signora Gardini. Ma cos'è Scientology realmente? Una chiesa, una setta, una congregazione? Ha detto tutto lei, non importa che parli io. Comunque è tutto fuorché una religione. Io mi sono avvicinata a Scientology perché era entrata mia figlia e l'avevano portata in America. E poi mi sono sentita a telefonare da mia figlia, la quale mi ha detto tu sei contro Scientology, non posso più né vederti né parlarti, la mia unica figlia. E allora ho detto provo anch'io, intanto tentare non nuoce. E quindi che cos'è Scientology? Scientology potrebbe essere una filosofia applicata, però una filosofia che copia da milioni di altri filosofi, da Platone in su. Cioè voglio dire è una filosofia, una filosofia costosissima che si rivolge a persone che hanno molti soldi, infatti per fare i corsi di Scientology il primo costa magari 20 Euro, sono i famosi specchietti per le allodole. Poi ce n'è quello che ne costa 180, poi quello che ne costa 200, fino ad arrivare a quello che ne costa 12.000. Chi sono le persone che si avvicinano soprattutto a Scientology, signora Gardini? Ma è molto un discorso di passaparola, amici di amici di amici, o loro fanno moltissimo volantinaggio. Poi Scientology non è solo Scientology, Scientology è Dianetica, è WISE, è CCHR per i diritti umani, è Narconon, è Criminon, tutte queste sigle sono Scientology. Infatti io mi arrabbio moltissimo quando vedo dei comuni che danno le sale comunali gratuitamente al CCHR o a WISE, le danno a Scientology, sono porte di accesso per Scientology. Tempo fa contattammo una fuoriuscita per avere anche nel confronto l'idea e la dimensione del tratto. Nostra ospite è una fuoriuscita dall'Opus Dei, la quale ha detto per me è iniziato l'inferno. Fuoriuscire da Scientology è facile? No, da nessuno di questi, come li chiama lei, culti, gruppi, sette, false religioni eccetera, da nessuno di queste cose uscire è facile. Uscire è difficilissimo, io ci ho messo due anni quasi, perché mia figlia è morta nel 1990 di malattia e io sono stata in Italia parecchio tempo, poi è mancata mia madre, ma mi telefonavano anche 17 volte al giorno perché tornassi in America. Cioè quando sono andata in America, che era appena morta mia figlia, e dissi io non ho più niente da fare qui, me ne vado. Da lì è cominciato il dramma, le persecuzioni, telefonate notturne, gomme della macchina tagliate. Che magari non è il capo che lo ordina, però il capo ordina che è la persona. Il fondatore Ron Hubbard ha scritto, una persona che è un soppressivo perché lascia Scientology, a questa persona può venire fatto di tutto. La chiamavano anche 17 volte al giorno perché tornassi in America. Anche 20. Immagino, ha dato una media. Le attività che svolgeva in America, qual erano? Lavorava per Scientology? Io ero staff in Scientology, facevo parte della Sea Org, l'organizzazione del mare, quelli che hanno la divisa da marinai, che in Italia sono a Vimodrone, c'è la sede a Vimodrone. No, a Milano c'è Scientology. No, non dico provincia di Milano, a Vimodrone c'è la sede della Sea Org, l'organizzazione del mare. In realtà se va lì li vede tutti quanti in divisa perché dipendono dall'America e io facevo parte dello staff americano. Ovviamente Scientology, in un'aspersione assolutamente superficiale, quindi parliamo di un aspetto aspersivo della stessa Scientology, la si riconduce con molta semplicità a Tom Cruise. Ma Tom Cruise non è nessuno, via. Ecco, no, no, perché c'è questa curiosità. Leggo qui un'ascoltatrice, Andreina, che ci scrive da Bari e dice è vero, voglio chiedere alla signora Cardini se è vero che è Tom Cruise il vero leader della chiesa di Scientology nel mondo. No, Tom Cruise non è nemmeno uno staff della chiesa, è un pubblico. Tom Cruise ci lascia a fior di quattro anni. Immaginiamo. Il leader della chiesa è David Miskevich, che non lascerà mai il posto. Tom Cruise è semplicemente molto amico di David Miskevich, è Scientologo, che ci creda fino in fondo, può darsi, non lo so. È una persona di una popolarità che sicuramente fa bene in termini promozionali. È calata molto, perché in America non abbiamo più copioni importanti e lo vediamo molto meno, eh, Tom Cruise? Sì, sì, anche perché la Miramax, per esempio, che è una superpotenza... L'ha licenziato. Eh, beh, loro sono ebrei, sì, credo di sì, insomma, ci stanno anche... No, no, è stato licenziato dalla Columbia, eccetera. Lui è azionista della Universal adesso. Universal, esatto. Comunque, Tom Cruise, Scientology, è la facciata pubblicitaria. Travolta, è una percezione, dottoressa Gardini, ci mancherebbe... Travolta sembra uno più aspirato, avvolto dal dolore, una persona fragile dopo la morte del figlio. Certo. Sembra una persona assolutamente fragile. Io ho conosciuto il ragazzino quando aveva 4 anni, era 4-5 anni, beh, lui aveva... Era autistico, questo ragazzino... no, autistico, aveva l'ADHD, credo, insomma, comunque aveva una di queste malattie. Chi siamo noi? Sì. Sì, siamo noi, siamo noi. Siete voi. Le chiedo scusa, dottoressa Gardini. Comunque, dopo la morte di Jet, credo, e lui è morto perché è stato curato con i sistemi di Scientology, non è mai stato curato da un medico vero, perché oggi come oggi, sia l'epilessia che l'autismo, queste cose si curano. Ecco, prima di salutarla, signora Gardini, è davvero di ringraziarla con la speranza di poterla riavere anche ospite nel corso della stagione radiofonica, compatibilmente ai suoi impegni. Compatibilmente con la mia possibilità di essere fuori da ogni ospedale. Io glielo auguro davvero come se fossi un amico che si ritrova dopo il liceo, si figuri. Anche perché ho un ricordo particolare che mi lega a suo cugino. Non so il rapporto che lei aveva con suo cugino, ma ho ricordo... Era un fratello perché viveva a Bologna in casa con noi. Allora le livello un aneddo. Niente succede per caso. Io, giovanissimo, mi iniziavo al lavoro di giornalista e io mi convinci che suo cugino era una persona, ma di gran lunga migliore di tutta quella marmaglia che lo circondava. E ha fatto un gesto che per me è assolutamente biasimabile nella sua universalità, ma che riesco solo in quel caso a comprendere perché in Raul Gardini l'ho visto di un coraggio assoluto. E per me, lo dissi anche ai familiari, resta sempre il titolo... A lui ha cercato di salvare i suoi figli. Sì, sì, sì. Raul era distrutto. E l'immagine del manifesto, la prima pagina, quei capelli mossi col fular dal vento, la caduta degli dèi, lo conserva ancora in casa, per cui si figuri. Io ne ho tanti, se voglio. Vabbè, lei era molto... Ovviamente sua cugina ci mancava. Però per me era come un fratello, in quanto pure avendo la famiglia Ravenna lui studiava a Bologna, quindi viveva in casa con me, con mamma e papà. Poi una sera veramente la disturbo ancora se vorrà e se potrà. L'ultimissima domanda, ed è una curiosità mossa anche da quella che è la nostra attività costante di denuncia su uno dei settori più infami nel mondo, che è la pedofilia. Quando si parla di queste congregazioni, di queste sette, di queste pseudo-chiese, alla fine si viene a scoprire anche di attività molto infami, molto laide. Lei ha mai scorto queste attività, queste sensazioni? L'ha mai avute rispetto? No, no. Posso però dirle che ci fu un caso proprio a Fleghi, in America, dove ero io, ma la persona fu buttata fuori. Ci fu un caso di uno staff che aveva abusato di un ragazzino, ma la persona fu buttata fuori immediatamente. Signora Gardini, io la ringrazio davvero di cuore, è stato anche un tuffo nel mio personale passato, questa telefonata le faccio i migliori auguri per tutto. La ringrazio. Grazie a lei. Grazie alla signora Maria Pia Gardini. Grazie.